Nonostante il tempo non clemente, ieri è iniziata la fiera di San Michele all'ex foro Boario. Il maltempo che si è riversato su Caltanissetta ha creato alcuni disaggi sugli operatori ambulanti, che rimarranno sino a domenica 2 ottobre. Un avvio dunque insordina, quello della fiera, che tutti gli operatori del settore si augurano che possa migliorare giorno dopo giorno e che le condizioni climatiche possono aiutare nella buona realizzazione della fiera, che quest'anno riunisce in un unico sito, appunto quello dell'ex foro Boario, oltre le bancarelle, anche le giostre. Alcuni ambulanti, per colpa del maltempo di ieri, si sono ritrovati a montare proprio in mezzo al fango, causando loro non pochi problemi logistici. Una scelta quella dell'ex foro Boario che al momento non trova pareri confortanti tra ambulanti e cittadini, ma si spera che vada tutto nel migliore dei modi. C'è questa campagna e acqua, cioè non c'è asfalto, non c'è niente per essere una fiera, però i soldi del solo pubblico sono stati uguali a una fiera, un pagamento di una fiera buona, perché il solo pubblico è stato caro, ma la fiera, la piazza dov'è? Cioè stiamo in campagna, la roba per i capitali, qua si rovina tutto, non si può esporre, non si può lavorare perché stiamo in mano e sporchi la campagna da ieri. Questa è una prova che stiamo realizzando quest'anno, perché ci sono anche le bancarelle vicino e quindi si presume che sarebbe una cosa molto positiva sia per noi che per i fieranti, per le bancarelle che ci metteranno a fianco e vicino a noi. Quindi io spero che vada abbastanza bene, sempre tempo permettendo. Sono fiducioso.